Ma che nonna si vuole fidanzare col dottor Pumagani? Volete? A fare gli speditosi davanti ai ragazzini che poi magari quello lo racconta in giro e stai pure e ce faccio io. E tu vai a mangiare perché quella sta sempre in dieta. Al massimo gli tengo da parte una bella foglietta di insalata. Eh dai mamma, basta, basta, non no. Ma basta con sto terrorismo. Tu gli devi di autello della stena calmata. Sto giusto un quarto d'ora e poi devo scappare dal parrucchiere. No, grazie. Preferisco saltare il pranzo. Allora, ma chi viene che cena? Il dolce gabbana? Il provino, mamma, già che sai quanto devi crescere. Ma perché papà? Hai deciso di tornare al lavoro? Beh, dove è che bel cimitero? Io vado a scuola. Cosa di papà? Perché domani? Mamma, mamma, sei una cucinella. Che bella. Non le fare del male però. Guarda come scappa. Vedi? Il tuo gigante nero è l'ombra di un uomo. Ma è tutta colpa del gigante e del suo incantesimo. Vedi? Ma è tutta colpa del gigante e del suo incantesimo.